1.800.000 euro per un intervento che ridisegnerà totalmente gli spazi intorno all'arco di Traiano di Benevento. La Giunta Comunale ha dato l'ok al progetto definitivo per la valorizzazione del monumento più noto della città, intervento che sarà finanziato con i fondi del programma PICS, un piano organico e strutturale mai eseguito negli ultimi decenni nell'area del monumento simbolo della città e concordato in maniera minuziosa con il Ministero dei Beni Culturali e la Soprintendenza. Con risorse complessive pari ad 1.800.000 euro si provvederà alla ripavimentazione delle aree circostanti, particolarmente suggestiva una taglia espositiva in vetro che ripercorrerà la storia di questo straordinario monumento intrecciando l'archeologia e la classicità con i più moderni strumenti tecnologici e multimediali di fruizione turistica. È un autentico fiore all'occhiello del programma integrato Città Sostenibile perché realizzerà una raffinata e delegante riqualificazione degli spazi intorno al monumento, ha commentato il vice sindaco e delegato ai PICS Francesco De Pierro. Secondo il cronoprogramma dell'ufficio tecnico, i lavori dovrebbero avere inizio nei primi giorni di settembre e si completeranno entro la scadenza inderogabilmente fissata al 31 maggio 2023.